La pinta del dito funziona sempre su santa, ma se c'è qualcosa da prendere, da vincere, ecco qua, fai vedere il cricetto, perfetto, tu ti chiami? Beatrice, Beatrice ha trovato il cricetto ninja, e allora Beatrice, Matteo e... Vem salva do mundo, na balada, me liga mais tarde, ou adora bom essa canta, me liana essa pega-bada, quero me digunts e me machucaba, lançar do ar, a feld soaiar. Senzual, un movimento sensual Senzual, un movimento muy sexy Sexy, un movimento muy sexy Sexy, una mano in la cabeza Ho una mano in la cabeza Un movimento sexy Chiami? Mi fa Si è rotto una mascella per mettere l'altro Prego, uno, due, tre, via Ha vomitato lì davanti Prendi pure il cubetto, ti chiami? Paolo Paolo, lui ha una tecnica particolare Riesce a dire il nome comunque Vai Oh, rischio, ha bisogno Prende il ferro Ha sputato dappertutto tranne del cubetto Via Attenzione, per pochissimo Seconda Vulu, vai Tre, uno, via Per poco Una cosa bellissima Molto bene Una, due, tre Via Oh Uno, due, tre, via Bene, avete vinto Allora, chi l'ha fatto che adesso ha vinto un giro sui scivoli gratis Via, dai, ciao, ciao, ciao E auguriamo a tutti un buon appetito Ciao a tutti Ciao Ciao Sì Di gelato Se vuoi, eh, se no Non te la senti? No, è troppo difficile Ecco il DJ Elia che sta arrivando con il suo secchiello Cosa stiamo andando a fare? Niente, c'è una ragazza che soffre di caldo Di calura E allora andiamo Ciao 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 Vuoi dire ciao per le Vulu TV? Ciao 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 Ciao